andiamo dai allora dai ci metto mezz'ora a accendere questa che cazzo vuoi fermo lì vieni avanti un pezzo oh fusi e si se no è un problema vedi a posto grazie andate piano che vi han toccato i giubetti andate piano che vi han toccato i giubetti andate piano che vi han toccato i giubetti e andate piano che vi han toccato i giubetti andate piano che vi han toccato i giubetti e andate piano che vi han toccato i giubetti e andate piano che vi han toccato i giubetti andate piano che vi han toccato i giubetti e guarda guarda devi fare il servizio su la felicità oh ma qua si arriva il giubetto me lo avete fatto togliere oh cazzo oh però anche detto non possiamo riuscire che figata ce ne avevo proprio voglia 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 qua quanta gente che c'è là che ci vede è pieno eh guarda guarda